Saluto ai 2500 residenti di Borgo Montello, frazione di Latina. Fu fondata negli anni 30 nell'ambito della bonifica e colonizzazione delle paludi pontine. Il borgo è suddiviso in otto contrade che si sfidano ogni anno in un torneo estivo, un motivo di orgoglio e vanto per i montellesi, i discendenti dei pionieri della bonifica di origine fiulana, veneta ed emiliana. Ho detto in apertura che a Borgo Montello ci sono cose di cui non vantarsi troppo, sicuramente la discarica, cosa è stato sotterrato nella discarica, sta nella parte dolori nella classifica dei montellesi. Saluto Alfredo Di Giovampaolo, ma prima di scendere nella discarica lo porto su una cosa che ha seguito per il nostro Tg, la vicenda del porto di Fiumicino. Ieri è stato fermato il numero uno di Acquamarcia, Francesco Caltagirone-Bellavista. Che tipo di conseguenze possiamo pensare su Fiumicino? Alfredo, a te la linea. Lazzaro, le conseguenze adesso ancora non le possiamo conoscere perché chiaramente si tratta di un'inchiesta che non riguarda assolutamente il porto di Fiumicino. È chiaro che la società Acquamarcia ha un peso molto forte nella costruzione del porto della Concordia. Vedendo quello che è successo ad Imperia, la cosa che posso dire è che tornano i nomi di molte società coinvolte sia nella costruzione del porto di Imperia che in quello di Fiumicino e poi posso dire che anche alla procura di Civitavecchia è stato presentato un esposto su alcune presunte irregolarità che sarebbero state commesse nella realizzazione di quest'opera. Però sicuramente avremo occasione di occuparcene nei prossimi giorni. Oggi invece siamo qui a Borgo Montello, come dicevi tu, dove vedete questa tenda o ciò che resta di una tenda che è stata il presidio per sette mesi delle persone che vivono in questa zona, che vivono di fronte a una discarica, una discarica enorme che da tanti anni è presente qui, una discarica intorno alla quale ruotano parecchi misteri perché ricordiamo che qui sotto, secondo il pentito di Camorra, Carmine Schiavone sono stati sepolti dei fusti tossici e la novità, ce ne siamo occupati già qualche tempo fa, la novità è che stanno per partire i lavori per la ricerca di questi fusti tossici. La regione ha stanziato dei soldi, il comune ha appaltato l'opera, qui con me c'è il vice sindaco del comune di Latina Fabrizio Cirilli che è anche assessore all'ambiente, l'altra novità è che ci sono state delle richieste di rinvio a giudizio, assessore per l'amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione, un altro imprenditore che doveva verificare la sicurezza di questa discarica, la procura di Latina, il pubblico ministero miliano ha chiesto il rinvio a giudizio, a maggio ci sarà la prima udienza, voi pensate di costituirvi parte civile come comune in questo processo? Assolutamente sì, se ci sarà rinvio a giudizio noi abbiamo già detto che ci costituiremo parte civile, chiaramente adesso siamo in attesa di aspettare l'esito dell'inchiesta che è in corso, per quanto riguarda poi il discorso dei fusti tossici c'è da sottolineare che questo... Un attimo solo dobbiamo dire che l'inchiesta è stata aperta per le ipotesi di reato sono inquinamento e ho messo controllo perché secondo l'ARPA Lazio, cioè l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nelle falde acquifere che passano proprio qui vicino alla discarica sono stati trovati residui di zinco, piombo, rame e altre sostanze che non dovrebbero essere nelle falde, quindi si sospetta che appunto vengano da lì. Parliamo quindi della ricerca di questi fusti? Sì, parliamo della ricerca di questi fusti che in un certo senso però è collegata allo scenario sotto certi aspetti che avete state disegnando, perché questa in effetti forse è una delle discariche più atipiche che esistono in Italia, perché vi sono una serie di invasi gestiti non da un solo soggetto ma da più soggetti che confinano fra di loro con una semplice rete medaglia, nel senso sono proprio confinanti. Ecco, la fermo un attimo Assessore, due soggetti, sono due società, una si chiama Ecoambiente, l'altra è la Indeco, l'Ecoambiente è una società partecipata dal Comune di Latina, Marco Mizzolo di Lega Ambiente. Voi non siete molto contenti del modo in cui si stanno effettuando questi sondaggi, perché? Intanto perché dite il controllore coincide con il controllato, perché? Esattamente, qui c'è un'anomalia grave, cioè dal nostro punto di vista controllore e controllato coincidono, questo ovviamente rende poco trasparente la procedura, due tecnici su tre fanno parte dell'Ecoambiente e quindi in qualche modo i due perni sui quali si dovrebbe regolare la vicenda rischiano di tenersi per mano ed è evidente che rispetto ad una questione così grave, così delicata, sia dal punto di vista ambientale, sia per ciò che riguarda la salute dei cittadini, evidentemente la legalità, questo non può essere da noi tollerato. Quindi voi chiedete maggiore chiarezza, ma anche su altri aspetti dei quali parleremo tra qualche minuto. Avete sentito il quadro di una situazione ingarbugliata sulla discarica di Borgo Montello, su questo quadro arriva una class action, ci sono conseguenze di questa accelerazione o si tratta di una bola di sapone, lo chiedo ad Alfredo Di Giovampaolo. Lazzaro, la class action è promossa da un comitato dei cittadini che si è costituito pochi giorni fa, vedremo che cosa succederà, ovviamente la class action è legata anche all'avvio del procedimento penale di cui parlavo prima, la richiesta di rinvio a giudizio per gli amministratori dell'ecoambiente, però al di là di questi comitati qui da tanti anni ci sono gli abitanti residenti di questa zona che si battono, come dicevo prima hanno per sette mesi presidiato la casa della signora Piovesan che ha vissuto per sette mesi in quella tenda, qui adesso l'Ecambiente e Libera hanno istituito un presidio fisso e continua questa battaglia. Assessore Cirilli abbiamo sentito prima da Legambiente, da Omizzolo che c'è qualche dubbio su questa ricerca dei fusti che dovrebbero essere sepolti sotto questa discarica, intanto per il fatto che chi eseguirà i lavori praticamente è legato alla società che gestisce la discarica e quindi questo diciamo che non è proprio una garanzia di trasparenza. Io se mi permettete due minuti vorrei fare perché dagli interventi... Due minuti è troppo, 30 secondi. No, state facendo molta confusione, nel senso che il rinvio a giudizio di cui avete parlato, di cui noi ci costituiremo parte civile, è legato a un inquinamento in corso... Certo, certo, sono due cose distinte. Il discorso dei fusti, fra cui non è vero che i controllori e i controllari sono la stessa cosa, nel senso che i fusti è una storia che risale a molti anni fa. Però è chiaro che se qui dovessero venire fuori questi fusti, l'attività della discarica subirebbe comunque un rallentamento o uno stop. Noi partiamo da un altro presupposo, noi ci auguriamo di poter trovare gli elementi per poter bloccarla proprio e chiuderla, nel senso che il futuro di questo territorio... Questo però, come verrà con me, non è l'interesse della società che la gestisce e che ha nominato due progettisti su tre. Infatti noi facciamo parte dell'amministrazione comunale e non degli interessi della società, noi auguriamo gli interessi del comune. I due progettisti su tre sono legati a una piccola parte del progetto, è quella dell'allestimento cantiere. Gli scavi, come gli studi proprietari, cioè gli scavi non sono assolutamente passati per la società. E da chi saranno eseguiti gli scavi? Gli scavi saranno eseguiti da una ditta che ha vinto una regolare gara d'appalto. Poseidon, che è una ditta subappaltatrice dell'ecoambiente. Però mi scusi, noi abbiamo fatto una gara d'appalto a cui hanno partecipato i uditti invitati da tutta Italia, da Udine, Pordenone a Messina. Poseidon è la società che se l'ha giudicata regolarmente e tra l'altro noi stiamo utilizzando tutti gli strumenti per le verifiche che la legge ci consente e quindi i 15 giorni dalla giudicazione provvisoria a quella definitiva per la verifica di tutti i carteggi. E 30 giorni per dare modo alle ditte che hanno perso e di poter presentare eventualmente ricorso. E qui questi ragionamenti... Sono dei dubbi sollevati, poi sicuramente è tutto in regola, però è anche legittimo porre delle domande. I dubbi sollevati sono legittimi, come è legittima la procedura che stiamo seguendo. Nessuno lo mette in dubbio. Per quanto riguarda gli scavi e i lavori vengono fatti da soggetti completamente terzi. I proprietari della discarica limitrofa hanno messo semplicemente a disposizione i loro mezzi per l'allestimento cantiere, quindi non per entrare nel merito. Il progetto è conseguenziale a studi della regione attraverso l'Istituto di Vulcanologia che ha fatto una serie di carotaggi improprio per verificare la presenza di questi eventuali fusti. Le voglio per far capire che qui siamo tutti d'accordo nel cercare di fare la cosa migliore del territorio che il sottoscritto denunciò la scomparsa dello studio che ne ipotizzava la presenza di questi studi e solo dopo dieci anni, avendo inviato personalmente le carte a procura, regione, provincia e comune di allora, la regione si decise di fare questi approfondimenti che poi hanno portato agli scavi. La devo interrompere un attimo. Introduciamo un altro argomento. Antonio Turri, Libera Lazio, secondo voi anche l'individuazione del sito in cui si scaverà non è proprio corretta? Avete dubbi anche su questo? Perché? Carmine Schiavone, il pentito, tutto nasce da lì. Nel 1996 dice che questi fusti sono stati interrati nei fatti fino a quando lui era operativo, cioè qualche anno prima. Anno in cui le discariche non erano i bacini, soltanto quello dell'S0 che era stato già chiuso, ma anche gli altri e bisogna sicuramente chiedere che l'indagine venga estesa, ma partendo da questo, c'è un dato di fatto, questo è un territorio che è già contaminato dalla Camorra e dalle mafie, sono qui in torno. Tra poco ne parleremo, per il momento restituisco la linea allo studio. Abbiamo meno di due minuti per completare il ragionamento sulla discarica, a te. Partiamo dalla planimetria della discarica tracciata dall'Arpalazio, qui vediamo l'area della discarica ai terreni che la circondano, con i nomi dei proprietari, Coppola Schiavone, Coppola Antonio Turri. Chi è Coppola? È una persona rimasta coinvolta nel processo Spartacus a Caserta, a Santa Maria Capovedere, e a quanto risulta condannata a 24 anni per il 416 bis. Quindi associazioni di stampo mafioso. I terreni che sono in torno alla discarica appartengono a questi personaggi. La signora prima ci stava raccontando la sua storia, lei vive qui, quali sono, perché se ne vuole andare, diceva prima. Non voglio andare via perché ho messo tutta una vita mia investita sul terreno che abbiamo comprato 40 anni fa. Allora era un terreno agricolo. Siamo venuti, facevamo vino, frutta, verdura e vendevamo al mercato di Roma. Adesso è tutto abbandonato, se lei viene sul posto è una cosa indecente. Voi avete avuto anche dei lutti in famiglia? Sì, è stato mio cognato è morto di tumore allo stomaco, ci sono altri tutti, diciamo... E questa è una situazione che riguarda molte famiglie di qui. Velocemente, Assessore Cirilli, due battute. Questi terreni appartenenti a famiglie, diciamo, poco raccomandabili e questi problemi segnalati dalla signora, qual è la via d'uscita? La via d'uscita innanzitutto purtroppo dipende molto dal piano rifiuti che la Regione Nazio sta facendo perché noi puntavamo molto sulle distanze, sulla normativa che... E qui forse c'è una grande responsabilità del passato, nel senso che poi queste distanze che stavano sul filo di lana con i centri abitati o riconosciuti, non ha tenuto conto delle persone che concretamente abitano. Però oggi c'è la discarica, come risolvere? Oggi la risoluzione passa attraverso il rispetto della legge, per cui noi non possiamo fare altro che aumentare, raddoppiare i controlli, fare in modo che non ci siano discariche successive e che si possa passare a ragionamenti alternativi alle discariche. E le associazioni chiedono anche che la Procura nomini un perito per seguire i lavori di scavo e che venga formata una commissione della quale facciano parte anche loro. Da Borgo Montello è tutto, linea a voi. Grazie Alfredo, è tutto.